Torniamo con la musica, la musica dei Blondi con il brano intitolato Mother, continuiamo questo nostro viaggio di primo spettacolo che andrà avanti come ogni giorno fino alle 19, quando arriverà poi il pivot con voi fino alle 20 e 30. Noi Federica diamo subito il benvenuto alla nostra ospite perché abbiamo in studio con noi Orietta Cicchinelli che ringraziamo. Ciao Orietta, buon pomeriggio. Ciao, buonasera. Ciao. Giornalista, insomma un collega giornalista con un romanzo, è qui da noi per presentare in realtà un romanzo intitolato La Madre, il tuo primo romanzo? Sì, è il mio romanzo di esordio e è dedicato a Vincenzo Cerami, una persona che penso tutti conosciate, insomma uno scrittore che è scomparso nel 2013. Con il quale tu avevi un rapporto di amicizia. E insomma lui mi ha sempre spinta in questa direzione e quindi soltanto dopo la sua morte ho deciso di finalmente uscire allo scoperto, quindi di pubblicare qualcosa che fosse anche di utilità pubblica perché i diritti d'autore del racconto li ho devoluti a una casa famiglia che è il protettorato San Giuseppe che si occupa di mamma in difficoltà. Madre, casa e famiglia, uno può pensare insomma che questo lavoro sia orientato soprattutto alla figura materna intesa come genitore. In realtà è un concetto che tu allarghi un pochino quello della madre. Sì, è un po' un racconto lungo che ripercorre un po' le origini di tutti noi, quindi la madre intesa anche come madre terra perché tutti poi abbiamo una madre. Nasce, diciamo il pretesto è stata la morte di mia madre, però in realtà racconta di tutte un po' le mamme che si alzano all'alba e si sacrificano e passano la loro vita insomma per fare qualcosa per i propri figli e alla fine passano anche in rassegna quello che hanno fatto insomma. Quindi è un racconto dal punto di vista di una madre. Scrivere da giornalista non è la stessa cosa di scrivere un romanzo, scrivere un articolo per un giornale. Tu ti occupi di spettacoli attualmente a metro ma hai lavorato insomma al messaggero. Come si è arrivata diciamo la scrittura di questo romanzo? Diciamo la molla che ci hai detto, l'ha fatto scaturire poi la scrittura di questo romanzo è stata la scomparsa di tua mamma. Ma avevi già anche nel cassetto? Sì sì, io ho sempre scritto e ho nel cassetto anche un romanzo che insomma spero di pubblicare e un altro racconto di tutt'altra natura. Però questo diciamo che l'autobiografia c'entra molto in questo primo racconto perché indubbiamente elaborare un lutto è diciamo attraverso la scrittura è molto più facile come attraverso la musica. Io ho la parola quindi scritta in questo caso, quindi l'ho fatta in questo modo, probabilmente un musicista lo farebbe attraverso la musica, quindi è un racconto emozionale, quindi nasce da quello. Qual è l'eredità che ti ha lasciato Vincenzo Cerami? Allora Vincenzo mi ha soprattutto insegnato a credere in me stessa, cosa che insomma è molto difficile perché io vengo da una famiglia di contadini, quindi ho sempre pensato che fosse tutto in salita per me e effettivamente è stato così. Però ce l'ho fatta, sono diventata giornalista nonostante le mie origini, forse anche grazie alle mie origini, alla mia testardaggine, alla mia voglia di... E lui mi ha insegnato proprio questo, mi ha insegnato a cercare e a prendere da ognuno il bello che c'è in ognuno, quindi a tirar fuori anche da me quello che insomma c'è di buono da tirar fuori insomma. Che donna era Armandina? Era una donna appunto molto dura come la terra, molto diciamo decisa, abruzzese vera, che ha tirato diciamo su una famiglia, perché io ho perso mio padre all'età di sei anni, quindi lei si era imboccata le mani, che lavorava la terra dalla mattina alla sera, quindi non aveva tempo per le ciance, per gli affetti, per... Era una donna di altri tempi che adesso forse non esistono più, cioè di quelle abituate al sodo, perché il suo orgoglio fondamentale era questo, era riuscire a tirare il filare della vigna come gli uomini, quindi a vangare come facevano loro, quindi per lei il modello di vita era l'uomo, non era la femminilità, non era... Una mamma ma anche un papà, insomma. Esattamente, proprio così, perché io penso a come sono io madre oggi e come lo era lei, c'è un abisso. Lei non dava mai una carezza, mai un bacio, mai un abbraccio, quindi una donna veramente d'altri tempi, però portava a casa il cibo, quello che a noi serviva per vivere, se prendevi uno schiaffo per strada te la dovevi cavare da sola, invece adesso noi che cosa facciamo? Proteggiamo i nostri figli, li facciamo vivere quasi come in un ambiente protetto, in assoluto, mentre poi la vita sappiamo bene che è un'altra cosa, soprattutto oggi, anzi è molto più difficile di come lo era ieri, penso. Li rendiamo più deboli, quindi, secondo te? Sì, secondo me sì, secondo me sì. Io, insomma, questo lo vedo anche con mio figlio, tendo a proteggerlo, invece no, dovrei lasciargli affrontare un po' di più le sue cose, insomma. In che modo ha deciso di raccontarla in questo romanzo? Allora, io l'ho immaginata, siccome io l'avevo vista un'ultima domenica, e lei era in una casa di riposo, ho immaginato che cosa frullasse nella sua testa, perché lei non parlava più e quindi io non sapevo, non ci riconosceva più, non sapevo che cosa avesse da dirci e quindi ho immaginato lei che ci appunto vedeva al suo capezzale tutti i giorni, una volta a settimana, quel che era, e ho pensato chissà che cosa passa nella sua testa, che quando ci vede, quando pensa a noi, quindi è lei che passa e rassegna la sua vita, quindi si racconta in queste 40 pagine di testa. È un racconto lungo, non è proprio un vero e proprio romanzo. E la copertina è una cosa, peccato non possiate vederla, ma è un'opera d'arte, veramente perché l'ha fatta Martina Rossi della Scuola Romana dei Fumetti. Poi Maurizio Battista, il comico, ha voluto, leggendo il libro, ha voluto regalarci la sua poesia dedicata alla madre che chiude tutti i suoi spettacoli e proprio perché è toccato da questo racconto, che è un racconto emozionale appunto, non vuole insegnare niente, non pretende di dare lezioni a nessuno, è solo un racconto di emozioni. E poi l'introduzione è di Elio Sena, che è un noto psichiatra e anche scrittore romano. Senti, tu che lettrice sei, che cosa ti piace leggere? Ma io leggo di tutto, insomma, dalla poesia e adoro per esempio Caproni, quindi quasi contemporanea, del Novecento, però mi piace anche Bukowski, quindi racconti della strada, mi piace insomma leggere un po' di tutto, anche i filosofi. Poi vengo da una cultura classica, ho fatto liceo classico, quindi insomma un po' ce l'ho dentro. Sei intrapiantata a Roma, però in realtà che legame hai mantenuto con la terra? Beh, io ho ancora casa in Abruzzo, dove torno tutte le volte che posso, raramente perché sai bene il lavoro di giornalista ci costringe un po' a dei turni, così, però ci torno molto volentieri e insomma quando ci torno ci sto ancora bene, anche nella solitudine, perché lì il tempo si è un po' fermato, non è come qui non c'è la frenesia dei tempi, noi guardiamo l'orologio, il tempo che passa, e invece lì il tempo ha un'altra dimensione, viene scandito dalle stagioni, dal sorgere del sole, dal tramonto e quindi ha un altro sapore, ve l'assicuro. Senti, ci sono state delle presentazioni di questo romanzo, sia a Roma che in altre località, come è stata? E sono andate benissimo, devo dire che Arion ha l'esclusiva della vendita, quindi il libro a Roma lo trovate solo lì, però l'abbiamo presentato anche a Spoleto, ospiti dell'assessore alla cultura di Spoleto, Gianni Quaranta, il premio Oscar che già mi ha chiesto l'adattamento teatrale di questo racconto e quindi per l'anno prossimo dovrò farlo per il Teatro Stabile dell'Umbria, quindi insomma è un piccolo sogno che si realizza perché io non pensavo di pubblicarlo questo racconto, è nato come un regalo da dare ai miei fratelli il primo Natale che passavamo insieme, senza mia madre che appunto... E poi invece l'ha letto un editore illuminato che è Ned, insomma una piccola casa editrice e ci ha creduto e l'ha voluto pubblicare. Quindi curerai tu stessa l'adattamento teatrale? Sì, curerò io l'adattamento teatrale e lo produrrà il Teatro Stabile dell'Umbria grazie appunto all'assessore Gianni Quaranta, premio Oscar per le scenografie. Allora ricordiamo il libro, quindi i nostri ascoltatori devono andare esclusivamente alla libreria Arion e per prendere appunto il libro intitolato La Madre, scritto da Orietta Cicchinelli che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. E a presto, ciao. Grazie a tutti.